Ben trovati all'ultimo appuntamento per il 2023 di Dentro il Consiglio il nostro settimanale che ci ha portato per tutte queste settimane proprio all'interno del Consiglio regionale della Toscana è un appuntamento importante perché abbiamo cercato di riassumere in un solo tema tre giorni di Consiglio regionale il tema è questo parliamo dell'approvazione del bilancio di previsione di 1924 e 1926 favorevole il PD, hanno votato conto Forza Italia Fratelli Italia, Lega, Movimento 5 Stelle non ha preso parte al voto, Italia viva e quindi iniziamo da qui in questo riassunto che vedrete durante il corso del nostro appuntamento avrà predominanza il discorso che riguarda la sanità ma ne parliamo tra un istante perché per dovere di cronaca vi diciamo che l'Aula del Consiglio regionale ha approvato con 21 voti favorevoli appunto il bilancio di previsione finanziaria 2024-2026 è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno firmato da tutti i capi gruppo che alla fine del percorso in ufficio di presidenza garantisce l'autonomia di scrivere le leggi all'Assemblea legislativa un ordine del giorno che impegna la Giunta a stanziare per il 2024 600 mila per la copertura delle iniziative legislative che provengono dal Consiglio regionale sono però stati ritirati gli ordini del giorno di Fratelli d'Italia che li presenterà sotto forma di mozioni nella commissione competente sono stati approvati gli emendamenti del Presidente della Giunta Gianni che servono a coordinare il testo e il contenuto del bilancio di previsione con gli emendamenti introdotti negli altri atti della manovra regionale con il voto su questo provvedimento e sono concluse le operazioni di approvazione del pacchetto della manovra di bilancio della Regione e dobbiamo anche sottolineare questo sarà poi il tema che affronteremo e ascolteremo proprio i consiglieri su questo l'Assemblea ha approvato a maggioranza con 22 voti a favore 13 contrari la nota di aggiornamento al DEFRA anche in questo caso Italia ha partecipato al voto l'atto è stato approvato emendato da un totale di tre emendamenti due erano presentati dal Presidente della Regione Eugenio Gianni oltre a quello che introduce l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF un altro che prevede la destinazione delle risorse attenute alla sanità e ai ristori per gli alluvionati è stato questo uno dei temi importanti il fatto appunto dell'aumento dell'addizionale regionale IRPEF se ne è parlato ci sono state anche conferenze durante i tre giorni di consiglio regionale noi abbiamo cercato proprio di riassumere questo partendo dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni l'ascolto anche di Simone Bezzini prima dei consiglieri di Simone Bezzini che è l'assessore alle politiche sanitarie e poi via via tutti i consiglieri tra i quali partiremo dal capogruppo del Partito Democratico che ci spiega questa scelta quindi abbiamo cercato nella sorta del materiale che avevamo riguardante appunto il bilancio di focalizzarsi su questo ma oggi possiamo dire in Toscana di aver salvato la sanità pubblica quello che chiaramente ormai il governo vuol fare è quello di indurre tagliando impedendo di avere in questo caso 420 milioni di payback che ci spettano per legge e che l'anno scorso un diverso governo con il Ministro Speranza avevamo avuto il tentativo è chiaramente di indurre restringendo le spese alla sanità di tagliare e spostare sulla sanità privata quello che sono le indicazioni noi a questo ci ribelliamo l'abbiamo dovuto fare proprio all'ultimo momento perché prima ci avevano fatto in qualche modo pensare che una situazione come quella della sanità toscana era un vanto per la sanità italiana e che quindi sarebbe stato rimediato a queste cifre a queste risorse poi quando è emerso che tutto questo non avveniva allora abbiamo dovuto prendere la posizione di incrementare quello che è l'addizionale IRPEF ma è una tantum intanto quest'anno ci riorganizzeremo cercheremo di limare aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa e al punto in cui arriveremo il prossimo anno nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi di imposta IRPEF naturalmente quello che è emerso in questo dibattito è il vuoto di proposte dell'opposizione tanti discorsi ma se io dovessi oggi mantenere e avere un'idea di come ridurre le spese in sanità dagli interventi dell'opposizione troverei lo zero assoluto e quindi da questo tratto le conseguenze che abbiamo fatto bene a intervenire con tempestività ora se non fossimo intervenuti ora con tempestività probabilmente avremmo avuto un commissariamento quando si fanno i conti cioè il 30 di aprile e quindi meglio una posizione impopolare ma che salva la sanità pubblica toscana che seguire il percorso demagogico e populista che ci è stata data l'opposizione allora se fossero arrivate le risorse del payback dei dispositivi medici anche per la metà rispetto a quanto la regione toscana deve avere sulla base di una legge dello Stato non ci sarebbe stato bisogno di fare la manovra fiscale ripeto anche per la metà stiamo parlando di risorse dovute rispetto alla legge dello Stato che afferiscono alle annualità 2019-2022 quindi soldi arretrati che sulla base di una legge dello Stato dovrebbero essere versati nelle casse delle regioni compreso la regione toscana quindi queste risorse non sono arrivate e nemmeno è stato consentito a differenza dello scorso anno per le annualità 2015-18 di poterle comunque imputare a bilancio in attesa delle erogazioni questo ovviamente ci pone un problema soprattutto per la nostra regione che ha un sistema sanitario molto esteso la regione toscana garantisce prestazioni ed esenzioni che vanno anche oltre i livelli essenziali di assistenza noi siamo tra le regioni che offrono i livelli essenziali di assistenza tra i più elevati del paese lo certifica ogni anno il Ministero della Salute ma offriamo anche tante altre prestazioni ed esenzioni sono state ricordate in questi giorni esenzioni per chi ha malattie rare screening neonatali le altre tipologie di esenzioni per disoccupati i cassi integrati persone in mobilità rispetto alla gratuità nell'accesso alle prestazioni sanitarie solo per fare alcun esempio oppure modelli originali come quello del trasporto sanitario che offrono servizi importantissimi che in altre regioni sono a pagamento di fronte diciamo alla mancanza delle risorse derivanti dal payback che ripeto ci spettano per leggi dello Stato e noi pretendiamo e pretenderemo anche nei prossimi mesi che queste risorse arrivano noi ci siamo trovati a un bivio o fare come in altre regioni e quindi come dire alzare bandiera bianca e sancire la ritirata della sanità pubblica universalistica in Toscana oppure fare una scelta dolorosa impegnativa complicata come il ricorso alla leva fiscale attenzione ricorso alla leva fiscale che riguarda solo una parte dei contribuenti il 72% dei toscani non vedrà nessuna variazione rispetto all'addizionale IPEF e con questo ricorso noi salvaguardiamo l'impianto complessivo del sistema sanitario del suo carattere universalistico dei servizi delle esenzioni ripeto altrimenti dovremmo spostare l'asso verso il privato e far pagare prestazioni sanitarie cittadine in questo modo tuteliamo le fasce diciamo più esposte più fragili della popolazione rispetto al funzionamento del sistema sanitario è una decisione che abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuore leggero perché tutti quanti credo avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte vale a dire chi più ha gli chiediamo uno sforzo per far sì che la sanità toscana che è una sanità considerata di eccellenza anche dalle indagini ministeriali possa eventualmente migliorare e non sicuramente regredire oggi la sanità toscana offre dei servizi che vanno oltre i livelli essenziali di assistenza si vuole far passare messaggio che si tassano soltanto i redditi sopra 28 mila euro in verità i redditi sopra 28 mila euro lordi sono tantissimi in Toscana e soprattutto pensate a quelle famiglie monoreddito magari con uno due tre figli a carico dove una differenza di importo 3, 4, 500 euro alla fine dell'anno sono una quantità corposa di soldi che avrebbero sicuramente destinato ad altro noi non siamo d'accordo sull'aumento delle tasse il presidente Gianni aveva già aumentato il bollo auto nel 2022 dicendoci che cosa che c'era un problema in sanità quindi i problemi in sanità erano conosciuti da tempo si poteva valutare appunto altre si potevano valutare altre strade come quella che noi sosteniamo da tempo il problema sanitario la governance non funziona la sanità in Toscana non funziona perché vedete si fa passare il messaggio che non si vogliono tagliare servizi non si vuol tagliare il sistema sanitario ma il sistema sanitario toscano è al collasso le liste di attesa sono sempre più lunghe non si sono verificate nuove assunzioni se non quelle degli amministrativi di un certo tipo non si parla di nuovi medici non si parla di nuovi infermieri pensate che all'ospedale di Cisanello sono sei le sale operatorie che sono state chiuse nell'ultimo mese per una spending review quindi questo non vuol dire andare a migliorare la sanità toscana dobbiamo ammettere che il fallimento della riforma del 2015 è in crisi dobbiamo ripartire da lì farci domande serie e concrete su quello che dovrà essere nei prossimi anni la sanità toscana che non può andare avanti così e non possiamo continuare mettendo in mano le tasche dei cittadini toscani io non ritengo che la maggioranza sia stata mai messa a rischio forse era la centrodestra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza c'era una divergenza di punti di vista una questione oggettiva che noi abbiamo io insieme al collega Sguanci rimarcato dal primo giorno di questa discussione noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica diciamo una tassazione molto forte nei confronti di cittadini toscani io l'ho definita fin dal primo giorno iniqua ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto penso che sia legittimo discutere nel merito a un certo punto di queste trattative in queste giornate si è entrati nel merito non si è arrivati laddove noi volevamo perché noi pensiamo che non sia corretto che una persona un professionista che guadagna 85 mila euro non debba pagare niente perché ha un regime forfettario non pensiamo che non ci sia una gradazione corretta che porti sulla fascia delle persone che sono una classe media quelle persone che da 1.400 euro al mese guadagnano 2.500 a dover pagare più 97% questo ci ha consentito di disentire su questa misura questo non vuol dire che noi non stiamo in maniera attiva importante nella maggioranza l'abbiamo dimostrato facendo approvare nel DREF un atto importantissimo che per esempio sul collegamento fra Siena e Roma porta fondamentalmente un'innovazione straordinaria di collegamento ibrido lo abbiamo dimostrato quando abbiamo votato in termini di bilancio e di legge di stabilità tantissimi articoli che riguardano investimenti opere pubbliche riguardano i nostri comuni da Firenze ai comuni del territorio senese aretino e pistoyese e non solo lo abbiamo fatto nelle misure di governo per quanto riguardano le imprese l'economia l'agricoltura noi ci stiamo in questa maggioranza e credo che dita la viva ci ne sia bisogno perché questo senso critico e questo spirito porta diciamo a raccontare la verità noi non siamo per aumentare le tasse abbiamo messo in campo proposte alternative noi eravamo e rimaniamo convinti che il credito debba essere riscosso sbaglia il governo Meloni a non assumersi questa responsabilità e a costringere le regioni a fare queste manovre quindi noi avremmo continuato a fare la battaglia nei confronti del governo Meloni mi fa un po' strano che siamo gli unici a denunciare le mancanze di un governo che non mantiene gli impegni con i cittadini e con le regioni questa manovra di bilancio resterà nella storia non credo della regione toscana semmai nella storia fiscale della regione toscana come la manovra che va a mettere le mani in tasca ai cittadini toscani è un qualcosa che pensavamo appartenesse a dire la verità a un'altra epoca politica noi abbiamo sperato fino all'ultimo momento che non si ricorresse non si riportasse sulla scena politica quella dicotomia che appartiene al passato per cui se i costi crescono e non si riescono a controllare l'unica maniera che si ha per limitarli è aumentare le tasse ai cittadini dispiace dispiace per due motivi la prima perché che i soldi del payback non erano sicuri di arrivare nelle casse della toscana non l'abbiamo scoperto ieri che non fossero sicuri noi potevano anche arrivare ma che non fossero sicuri lo sapevamo però da almeno 18 mesi e in questi 18 mesi tante volte anche dai banchi dai banchi della minoranza è arrivato un invito al presidente Gianni a mettere mano ad una ristrutturazione ad una riorganizzazione del sistema toscano sanitario che non è stata fatta e poi all'ultima abbiamo dovuto aumentare le tasse ma c'è di più perché oggi il presidente Gianni in aula ci dice che da oggi partirà una task force alla quale noi crediamo e siamo super favorevoli una task force per razionalizzare le spese e riorganizzare il sistema sanitario perché grazie a questa task force eviteremo che il provvedimento di aumentare le tasse diventi strutturale cioè oggi Gianni ci dice datemi un anno di tempo per lavorare con una task force a razionalizzare le spese del sistema sanitario e tra un anno io ridurrò quelle tasse che oggi aumento questo significa che se fosse stata ascoltata la minoranza 18 mesi fa quando dicevamo mettiamoci al lavoro per razionalizzare le spese avremmo evitato beatamente l'aumento delle tasse che arriva sulla schiena dei cittadini toscani a 5 giorni dal Natale e che per qualcuno significa qualche centinaio di euro in più spesi per qualcuno qualche migliaio di euro in più spesi motivo per cui questa manovra di bilancia ha trovato la contrarietà di Fratelli d'Italia noi siamo contrarissimi all'aumento delle tasse soprattutto in questa misura perché vanno a toccare il ceto medio che è in un momento particolare di difficoltà tra l'inflazione e l'insicurezza generale dovuta anche alla situazione geopolitica che non fa certo venir voglia né di investire né di aver fiducia sul futuro quindi questo pagamento extra di tasse sicuramente a nostro avviso non può certo portare a una maggiore fiducia nel futuro e quindi si ripercuote su tutto lo sviluppo economico della regione fermo restando che non possono certo essere i cittadini a far le spese di una cattiva amministrazione della regione e così siamo arrivati anche al termine del nostro appuntamento e di un anno che abbiamo trascorso insieme ci fermiamo solo giusto una settimana poi ritorneremo con tantissimi argomenti con i buoni propositi dei consiglieri quindi per affrontare già nelle prime sedute d'aula quello che si prefigono per il 2024 vi ricordo comunque per essere informati e per avere ulteriori informazioni anche sul tema che abbiamo approfondito quest'oggi e sul bilancio di previsione 2024-2026 vi invitiamo proprio a collegarvi al sito www.inconsiglio.it io vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro buone feste e vi aspetto tra una quindicina di giorni sempre qua dentro il consiglio e vi aspetto